Barigeli, il portiere del Parioli, oggi vittoria per 8 a 4, tre punti importanti, terza vittoria consecutiva contro la prima. La prima domanda è un commento, come ha andato il secondo tempo rispetto al primo? No, al secondo tempo, bene, siamo riusciti a chiudere una partita all'inizio, poi abbiamo cercato di gestire, come abbiamo subito siamo riusciti sempre a rimettere le cose al loro posto. Indubbiamente è una partita strana, perché loro vengono a una situazione particolare, perché come si ha vinto il campionato, devo aggiungere anche molto meritatamente, e indubbiamente vengono liberi di provare tante cose, quindi penso che per loro oggi sia stato il modo per prepararsi poi a questa Final Four di Coppa Italia, anche lì meritatamente loro parteciperanno. Invece le volevo fare una seconda domanda, proprio in merito alla preparazione, comunque un 8 a 4 contro la prima, sinonimo di grande preparazione, come avete preparato la partita contro l'attaccante dell'Aeraclase principale, Rondon e gli avversari in generale. Ma più che preparare la partita su Rondon abbiamo preparato la partita con tutta la squadra, perché insomma adesso non toglierei nulla agli altri componenti, abbiamo stati una squadra compatta, una squadra che ha fatto la sua forza nel rendimento, quindi non abbiamo preparato in particolar modo la partita, più che altro abbiamo preparato la squadra dal punto di vista mentale, perché situazioni strane, loro vengono giustamente festanti del fatto che hanno vinto il campionato, comunque vengono molto liberi di testa, giocano molto liberi, siccome le qualità ce ne l'hanno, indubbiamente potrebbero riaffori al cilindro sempre qualche giocata fenomenale. Allora, grazie mille e buon caluto per le prossime partite.